No, no, abissimi, professionali. Ho fatto una richiesta a Gopinath che che deve dire di leggere l'introduzione della Bhagavad Gita, un punto importante in questo. Vedete quale meraviglioso il Prabhupada, quale ha dato meraviglioso, e ho raccontato qualcosa che è importante, quello che ha detto nella sua introduzione della Bhagavad Gita. Quindi, specialmente, la grande meravigliosa di Prabhupada quando non sappiamo cosa, come ha presentato la Bhagavad Gita nella nostra vita, per capire. potremmo ascoltare quanto è stato misericordioso Prabhupada soltanto nella scrivere l'introduzione della Bhagavad Gita. Gurudeva ci spiegherà questo. Sottotitoli Sorry, I was scared, ma non si impossibile sarebbe Buona traduzione Sottotitoli Sottotitoli Ricce Questa mattina Gurudeva ha parlato dell'importanza di Namanista, Gurunista e Ishtanista. La rivelazione più bella di questa mattina è stata che questi tre non sono disconnesse ma sono legate l'una all'altra. E Namanista significa Sambandha Gyan. No, sorry, Namanista significa Abhideha Gyan. Namanista significa Abhideha Gyan. What is Abhideha? Abhideha, how to become, differentiate ourself in between senses, body and soul. Abhideha significa come rendersi conto che si è separati dal corpo e dai sensi, cioè la nostra anima è separata dal corpo e dai sensi. Sì, body and soul. Abhideha significa che il tuo corpo è lì, ma tu sei libero. Esatto. Sambandha significa relazione. Se vuoi conoscere qualcuno, non lo puoi conoscere senza una relazione. Non puoi avvicinarti a quella persona senza una relazione. senza la relazione non c'è vicinanza. E questo può avvenire soltanto attraverso la misericordia del Guru. perché puoi avere e instaurare una relazione personale con lui. Maestro, come una madre, come un padre, come un amico, tutte le relazioni puoi sentire con lui. come quello con la madre, con il padre, con i fratelli e gli sorelli, gli amici. Tutte le relazioni sono coperte. e per relazioni spiritualmente, questa relazione è importante con il maestro spirituale. Per realizzare è molto semplice, no? È semplice. Per realizzare la relazione. È semplice, sì. So, Gurudeva ha sempre messo a fuoco l'importanza della Bhagavad Gita perché dice che all'interno della Bhagavad Gita si può trovare tutta l'essenza della nostra vita, della nostra esistenza. uno trova avidea, sambandha e prayocera. Prayocera significa il obiettivo, il scopo della vita. Prayocera significa il obiettivo, il scopo della vita. Prayocera significa il obiettivo, il scopo della vita. Cosa è il obiettivo? Il obiettivo è il obiettivo. Il obiettivo è il obiettivo. Il obiettivo è il obiettivo. Questo è dal prefazione della Gita. Questa, che sta per leggere, è dalla prefazione della Bhagavad Gita. Di Shri La Prabhupada. Di Shri La Prabhupada. Tutti dovrebbero sapere che un'entità vivente è eternamente servitrice e che, a meno che uno non cerchi Krishna, uno deve servire l'illusione nelle sue differenti forme dei tre sentimenti della natura materiale. Se non si serve Krishna, se non serve Krishna, poi... Tutti dovrebbero sapere che un'entità vivente è eternamente servitrice. Quindi, se non si serve Krishna, si deve servire la natura materiale in tutte le sue varietà e nelle tre diverse influenze della natura materiale. Alguien nella ignoranza, si vedono la ignoranza. Alguien nella passionassa ha come che si 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 two compromesso. E così chi è in passione o in virtù sono in passione in virtù quindi sembrano anche in virtù e si comportano in questo modo è così chi è in passione o in virtù quindi sembrano anche in virtù e si comportano in questo modo la prima cosa è l'entità vivente dobbiamo cercare di capire cosa Prabhupada vuole dire con entità vivente ci dobbiamo identificare con quello sì questo è avidea ghyana l'entità vivente è avidea ghyana è la conoscenza all'idea il Signore è l'obiettivo il Signore è l'obiettivo lui è l'obiettivo io sono parte e parte di qualcosa io sono l'obiettivo io sono l'entità vivente sono soltanto parte e particella quindi l'obiettivo della vita qual è? cercare di ritornare e capire la sorgente della nostra essere parte e particella solo quello è l'obiettivo il Signore è il mio obiettivo se ho differenti obiettivi nella mia vita allora non vedo che io sia un'entità vivente e quindi la natura dell'essere vivente è quella di dare immediato servizio al Signore cosa significa? cosa significa? che questo è l'obiettivo della vita cosa significa? che questo è l'obiettivo della vita sì? chiaro? chiaro? più vicino ah sì è così meraviglioso vedete vedete quando aumentiamo la nostra pratica spirituale possiamo vedere ogni volta che aumentiamo la nostra pratica spirituale possiamo vedere quanta misericordia possiamo ricevere come capiamo questo è che Come capiamo? Invece di soddisfare i propri sensi materiali l'entità vivente deve soddisfare i sensi del Signore. Questo è il nostro obiettivo. È un materiale, qualsiasi sensi abbiamo, i fisici e questi sensi, è un materiale, e noi lavoriamo per soddisfarli. In questo mondo è un materiale, tutti i nostri sensi sono materiali e noi lavoriamo per soddisfarli. Ma è temporaneo. Non otterremo assolutamente niente nel dare soddisfazione ai sensi materiali. Questa è la più grande e più alta perfezione della vita. Quindi la più grande perfezione e la più alta perfezione nella vita sono non il soddisfacimento dei sensi materiali ma del Signore. Questo è quello che fanno le gopi a brindavana. Gopi significa sensi, quindi le gopi sono coloro che offrono i loro sensi a Cristo. Questo è il nostro obiettivo, che noi siamo parte e partei del Signore. E io ho bisogno di servire, non di quello che è materiale, che non è temporale, non è permanente. Quindi questo, quello che è l'obiettivo, soddisfare Krishna e non soddisfare ciò che è temporaneo, quindi i sensi materiali, perché non sono permanenti. Eterni. Il Signore vuole questo e lo pretende. Cosa chiede? Di tutto quello che chiede? Che tu lo serva, che lo hanno. Questa è la sua richiesta, il suo desiderio, ma noi dimentichiamo che vuole qualcosa a causa dei nostri desideri materiali. Uno deve capire questo punto centrale della Bhagavad Gita, questo è il punto centrale della Bhagavad Gita, questo è il punto centrale della Bhagavad Gita. Come questo potrebbe aumentare la mia avidea, la mia sambandha e la mia prayogana? Come questo potrebbe aumentare la nostra avidea, sambandha e la prayogana? Adesso ci stiamo spostando a leggere dalla prefazione all'introduzione della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è comprensibile nel miglior modo da persone che hanno qualità simile a quelle di Arjuna. Questo significa che deve essere un devoto con una relazione diretta con Krishna. la relazione, vedete? Senza relazione, con un atteggiamento impersonale non si può capire. ale si stadi, verlo? Entendete? Verso? E' chiaro per voi? Sì, rovinvi. Questa è una amicizia trascendentale. Cosa è trascendentale? Come la madre e il figlio. Vedete, è quello che è trascendentale, spirituale, divino. È ancora più spirituale perché non c'è interesse dietro quel sentimento, è senza egoismo. Questo è il trascendentale, quando i amici hanno pensato divino, certo? Hanno connessione divino. Heart to heart, soul to soul. Non l'involuzione fisica. Questo è trascendentale. Questo è pure. Quindi è trascendentale, puro quando non c'è egoismo e non c'è voler prendere, basta. No fighting is there. No my self desire is there. Quando non ci sono desideri egoistici in quella relazione. Non c'è ego. Ego significa coscienza corporea. non è trascendentale. E la coscienza corporea non è trascendentale. Ma nello stato presente della nostra vita, non soltanto abbiamo dimenticato il Signore Supremo, ma abbiamo dimenticato la nostra relazione eterna con Lui. Quando dimentico Abidea, myself, my identity, quindi dimentico me stesso. In questo modo dimentico anche lui. E anche perché ho dimenticato la mia relazione, in questo modo dimentico anche la mia relazione. con te. Entendete? È così semplice. Quando dimentico me stesso, naturalmente dimentico anche te. E naturalmente dimentico anche la mia relazione con te. Quindi cosa è la cosa importante? Non dimenticare. Cosa non dimenticare? La tua esistenza in questo corpo. In questo corpo. E questa è Avidea, sì. Sì. E questo, come possiamo venire fuori da questa dimenticanza? Sì. E come possiamo venire fuori da questa dimenticanza? Attraverso la misericordia del Maestro spirituale, attraverso la sua associazione. Attraverso la misericordia del Maestro spirituale, attraverso la sua associazione. E la fede forte può aumentare questa conoscenza. e ancora non dimenticare il suo nome è importante mantenere la coscienza del nome qualche volta dei devoti mi hanno chiesto cantare è importante ho detto non così importante se non hai desiderio non è importante ma se hai desiderio di vivere nella misericordia del tuo maestro spirituale di conoscere te stesso e essere cosciente di questo non c'è un altro modo se non c'è desiderio allora è ok dipende da persona a persona su quello che si vuole tutti gli esseri viventi hanno una particolare relazione con il Signore eternamente essere viventi non vivendo non vivendo non capire questo non vivendo non capire il tavolo non vivendo non capire in questo corpo i sensi non capire ma vivendo è la nostra anima ma vivendo è la nostra anima e lei capirà questo quando vivrò in un essere vivente allora posso capire come adesso noi stiamo vivendo nel nostro essere vivente è facile da comprendere tutti lo possiamo comprendere giusto o sbagliato giusto o sbagliato say yes no that yes 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 go on tutti gli esseri viventi hanno una particolare relazione con il Signore eternamente in tutti gli esseri viventi hanno una particolare relazione con il Signore eternamente questa è chiamata svarupa cosa significa svarupa? cosa significa svarupa? inglese è una parola india inglese cosa è inglese? forma forma certo? cosa? come due lampadine sono luce danno la luce forse da cinque anni forse da cinque anni che sono insieme forse da cinque anni che sono insieme hanno qualche relazione tra di loro hanno qualche relazione tra di loro perché tu hai una forma perché tu hai una forma e io ho una forma quindi la relazione può andare avanti quindi la relazione può andare avanti se io non ho forma e tu hai solo forma potrà esserci una relazione ma io credo che Gopala ha una relazione con Sanatani perché lei è madre e lui è il figlio giusto o sbagliato? quando lei diventa madre allora c'è la relazione quando lei diventa madre allora c'è la relazione quindi cosa è importante? la sua relazione se vuole io voglio rivolgere la mia relazione con te la mia forma è importante prima che la tua forma è importante quindi nell'istaurare una relazione sono importanti entrambe le forme sì? allora mia relazione può rivolgere o non? è impossibile una forma da sola non può rivolgere la relazione C'è bisogno di entrare. Vedete, io ti dono Gesù in Giampo. Lui dice, io sono un figlio. Non dice, tu sei il padre. Io sono il figlio, allora tu sei il padre. Perché la mente è come un figlio. Perché l'anima è come il figlio e la superanima è come il padre. Quindi la relazione si stanno fino a vivere. La relazione è la stessa, non cambia. Un giorno il padre, un giorno la madre. Io sono il padre, tu sono il mio figlio. Non è così. Solo il figlio e il padre. Se cambia il padre, io sono prima il padre, poi il figlio, poi la madre. E questa cosa non cambia. Perché una volta che è stata instaurata la relazione è quella. Io sono il figlio e tu sei il padre. Se per esempio porti con Radha e Krishna Sanatani non riuscirà a relazionarsi perché con Gopala si relaziona Sanatani. Perché Gopala è il figlio. Perché lei è già diventata madre e quindi ha instaurato una relazione con un figlio. perché noi dobbiamo fare una relazione. Perché noi dobbiamo fare una relazione. Quindi devo fissare la mia forma per avere una relazione. Quindi devo fissare la mia forma per avere una relazione. capito qual'è l'importanza e il significato della relazione? Qual'è il significato di svarupa? Entendete? Sì. Sì, andate. Attraverso il processo del servizio rivoluzionale questa relazione d'amore e questa relazione d'amore diventa così intensa. cosa c'è? Attraverso il processo del servizio rivoluzionale possiamo rievocare la forma, la svarupa. Entendete? E' chiaro? Questa è la più alta, la più confidenziale conoscenza. questa è la più alta, la più confidenziale conoscenza. Conoscenza. In la nostra linea Vaisnavalana. Ah sì. Non c'è nient'altro più in alto di questo. e l'ha scritto in pagina quattro dell'introduzione, proprio quattro della Pagamoditta. Non è questa misericordia? come un po', come un po' come un po' come un po' La piazza è riempita, ma la mia piazza è così piccola che non posso riempire più acqua, perché la mia piazza è riempita. La mia piazza è riempita, quindi non posso riempire la mia caccia, ma la piazza è lì, la misericordia è lì. Per il processo di servizio, uno può riempire quella svarupa e quella stagione è chiamata svarupa siddhi. Quindi attraverso il servizio devozionale possiamo rievocare la svarupa, la forma, e quindi diventare svarupa siddhi. Perfezione, siddhi significa perfezione. Quindi diventerete siddha, perfetti. Se faccio qualcosa e non arrivo alla perfezione, allora è anche inutile farlo. La perfezione è importante nella vita. Questa è la più alta dei soggetti che posso dirvi. Più alto di questo. Questa è la più alta dei soggetti che posso dirvi. Più alto di questo. In Vrindavan, questo è il Sadhana. In Vrindavan, questo è il Sadhana. In Vrindavan, in Govardhan, in Radhakunda, questo è il Sadhana. Non c'è nient'altro più di questo. Questa è la A, e puoi andare più a fondo, B, C, D, F, G, etc. Abjasoda può sapere come si tratta di suo figlio, come si tratta di suo figlio. La madre può sapere. La madre è l'A, è l'A, l'A, l'A è l'A. E' l'A è l'A, l'A è l'A. L'A è l'A, l'A è l'A. L'A è l'A, l'A è l'A, l'A è l'A. E poi inizia la tua profeccia. Realizzazioni. Realizzazioni sono differenti. È il vostro passatempo. Capite quello che gli sta accadendo? Capite quello che gli sta accadendo? Between you and him, that is your past time. Sorry, I'm taking you very deep, but he says, really, it's the Prabhupada mercy, I am, I suppose. When I am reading, I say, wow. What mercy. Still I cannot read whole Bhagavad Gita because I stay here. It's very special. And his look I took, I feel again and again to read that. So much he gives to us. So Gurudev, Nam Nishtar, Guru Nishtar and Ishtar Nishtar, they lead to revive the form? Guru Nishtar is like you and me. Then I can easily relate with you. Relation, what is divine relation? How nobody can teach me. Only the Guru can teach the relationship. And how is it divine feelings and relation? It comes through Guru. In one moment there are all relation you can see. Like a motherly. In a behavior, you can feel, he will behave like a father to you, very angry to you. Sometimes very motherly. Sometimes very friendly. Sometimes like a son and you are a father. Sometimes like a lover. You share your heart. You cannot want to talk to anyone but you share everything to him. Like a lover. You cannot hide anything from him. 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 Cantare i nomi è l'unico modo per arrivare a questo tipo di coscienza. E quindi arrivare ad Abhidea e ad essere sempre in quella posizione spirituale. Conoscere la vostra identità. E anche se andate dai Mayavadi e nella filosofia Mayavada diranno che il Guru è tutto. Ma lui verrà l'obiettivo. No, è l'obiettivo, è la strada. E' la strada, non l'obiettivo. La differenza è che i Mayavadi ti dicono lui è l'obiettivo, invece è la strada. Mentre gli amanti devoti dicono, no, io sono la strada e l'obiettivo è lui. No. 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 E' importante vedere la connessione spirituale che c'è. E di tanto in tanto, si espande in differenti corpi per aiutarci. E quindi dobbiamo sempre meditare sul nostro cuore e sul nostro istra, Deva. E attraverso di loro insegnano, attraverso di loro l'insegnamento. Prima quando Gopinath ha detto che il Guru è la via perché il Guru è così innamorato che vive, che fa vedere questa relazione d'amore con l'obiettivo. Grazie. 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 è sufficiente, non possiamo preservare è un po' peggio che non puoi mangiare l'acqua perché il po' peggio è peggio, non puoi pulire l'acqua dopo aver compito quando il po' peggio è peggio, non puoi pulire solo sul tuo cuore, non sul suo cuore il po' peggio è peggio, in ogni posto ma non siamo preparati a ricevere quella misericordia non? è molto bello, molto bello grazie molto bello